L'attività economica nelle Marche è sempre più debole. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia elaborato dalla Banca d'Italia, la crescita annua nella nostra regione è stata dello 0,6%, numeri piuttosto contenuti rispetto a quelli nazionali. Per quanto riguarda l'industria c'è un vero e proprio arretramento del fatturato, mentre per il settore del terziario e delle costruzioni le criticità si manifestano nel senso di un passo meno brillante e slanciato del recente passato. L'indebolimento dell'attività economica è andato di pari passo con quello occupazionale. In un contesto lavorativo in cui le imprese continuano a riscontrare difficoltà nel reperire la mano d'opera, l'offerta di lavoro registra una netta contrazione, riconducibile soprattutto al calo della popolazione in età lavorativa. L'occupazione è cresciuta in termini di numero di occupati, meno che nel resto del paese. Soprattutto evidenziamo come nelle Marche ci siano problemi anche per quanto riguarda il livello delle retribuzioni e dei salari, che in molti casi sono più bassi di quello che si registra nel resto del paese. Anche i prestiti bancari nella nostra regione si sono fortemente ridotti rispetto alla media nazionale. Visto il rialzo dei tassi di interesse c'è stata una notevole contrazione dei finanziamenti alle famiglie. Per ciò che riguarda le imprese c'è sempre una minor convenienza da parte dei grandi players a rinnovare il debito per la crescente onerosità dei costi. In questo panorama la sfida per il 2024 è rappresentata dalla crescita della produttività. Favorire gli investimenti sia dal punto di vista legislativo, burocratico, del credito. Quindi è un intervento nel quale si può fare sistema apportando ciascuno qualcosa, ma questa è la sfida nevralgica.